Salve, buongiorno. Grazie per essere qui. Io rappresento il Centro Servizi per il gruppo dedicato. Il Centro Servizi, come dice la parola, dà una mano a tutte le associazioni volontariari, dà una mano a chi dà una mano. Noi nella nostra attività siamo supportati finanziariamente delle fondazioni bancarie, che ci danno incontri anche per realizzare questi due progetti che facciamo nei banchi, e siamo sottoposti al controllo di gestione. Dando fondi dobbiamo essere sicuri e anche una garanzia per noi stessi che vediamo bene per il volontariato. Siamo in una fase di forte cambiamento, si guarda la riforma del terzo settore del volontariato, ma noi dobbiamo essere soggetti passivi. Il volontariato è in modo che le azioni volontarie fanno il cambiamento e il volontariato deve avere un ruolo politico nella società. E noi riusciamo, ci abbiamo come cittadini e come associazioni, il potere di cambiare la realtà. Facciamo tante cose quando ci guardiamo indietro. Alle volte non siamo in in grado di comunicare per quello che facciamo. Per farla breve, il termino, dovevo leggere una frase. Per me è importante, ma c'è stata la barriera di Aspoli con me, no? La scorsa settimana. Scusate, il giorno, ieri. Qui si parlava proprio del terzo settore. Allora, un concetto è un concetto. Cominciate a fare il necessario, poi ciò che è possibile e all'intro piso vi sorprenderete a fare il possibile. E quindi ringrazio Aires e tutti i volontari di cui ci sono ieri perché con quel poco che abbiamo e che facciamo, ci sorprende sempre un più lungo. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.